Ciao a tutti, allora io mi chiamo Daniel Sax in arte, sono italiano, vengo da Palermo e sono qua per la terza volta, suonerò la sigla, è una mia composizione, si chiama il titolo del brano è Sax Dance è una manifestazione bellissima dove ci sono tanti professionisti, tanti cantanti, giovani che si vogliono veramente far notare e io già che ho ascoltato in anteprima sono veramente eccezionali lo spettacolo è ad alti livelli, è veramente bello e importante, allora noi ci vediamo sul palco e sentirete suonare le mie performance, ciao a tutti A presto 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 A presto